Bruno Vicente, l'Akragas prepara la trasferta in Puglia, sabato la sfida contro la capolista Lecce. L'Akragas può fare il colpaccio? Certo, allora sappiamo prima di tutto di andare a trovare una squadra ovviamente costruita per vincere il campionato, una piazza che sicuramente merita altri palcoscientici. Comunque noi dobbiamo andare là con la nostra umiltà, con la nostra consapevolezza di gioco e tutto altro, provare a fare il meglio possibile e dopo vediamo quale risultato verrà fuori. L'Akragas come ha preparato la partita contro il Lecce? No, noi abbiamo preparato come prepariamo tutte le partite, nel senso proviamo a preparare sempre il meglio possibile, in tutti i sensi, studiando la squadra avversaria come abbiamo fatto con tutte fino adesso, perché anche secondo me in questa categoria dobbiamo preparare ogni partita come se fosse una finale, perché per noi ogni punto e ogni partita comunque è molto importante. L'Akragas ha pareggiato sabato scorso contro il Biceglie e disputando ancora un'ottima partita, un'Akragas che sta bene fisicamente e anche mentalmente. Sì, sì, noi ormai abbiamo aggiunto una certa mentalità, una certa consapevolezza delle nostre qualità. Poi abbiamo ancora delle pecche che comunque stiamo lavorando durante le settimane per provare a migliorare e a limare il massimo possibile gli errori. Grazie.